qui al convento non festeggiamo solo i nubilati e i celibati ma festeggiamo anche il dopo quando loro diranno sì in chiesa vengono qui al convento di Lonazzo di Brescia a festeggiare le loro nozze qui vengono a fare il pranzo nuziale e adesso andiamo subito a conoscere gli sposi che si trovano in mezzo ci mettiamo in mezzo passiamo mister Dave in mezzo la sposa vedo la sposa non vedo lo sposo lo sposo eccolo qui sposi in parte a me una di qua e una di là eccoci qua in diretta con gli sposi verso la camera iniziamo domanda subito come lo scombo il quiz pronti vai nome cognome no scherzo solo il nome iniziamo con i nomi Stefania Stefania e Dennis ok ci sono da dove venite Brescia Manerbio Brescia Manerbio quindi vi siete sposati dove Brescia Manerbio a Manerbio e qui al convento a festeggiare il pranzo nuziale esattamente ok subito una domanda di fronte uno di fronte all'altro dovete dire a vicenda un pregio e un difetto dello sposo e te della sposa siete pronti prima lei prima lei iniziamo iniziamo dalla sposa prima il difetto dai il difetto dello sposo lento è lento non voglio sapere a far cosa è lento il pregio il pregio paziente è paziente difetto è pregio adesso la tua attuale moglie impaziente ok e il pregio quello è quello è il pregio si lo so è il difetto adesso devi dire il pregio adesso devi dire il pregio adesso devi dire il pregio è trasparente è trasparente fantastico allora qui in diretta il video del convento vogliamo un bel bacio in diretta degli sposi di Brescia provate il mio 3 1 2 3 via e viva gli sposi